L'odevole iniziativa civica ieri a Favara, al piazzale Belvedere San Francesco, dove i volontari di alcune associazioni, i migranti ospiti della comunità, la tenda del padre Abramo, sono stati protagonisti di Coloriamo Insieme. Armati di pennelli e vernice hanno pitturato di blu le rinchiere metalliche del Belvedere per restituire decoro alla paranlamica piazzetta. L'iniziativa che si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti promossi dai frati minori in occasione di San Francesco, nonostante l'appello alla partecipazione lanciato alla cittadinanza dal guardiano del convento Fra Giuseppe Maggiore, ha registrato la presenza dei soli soggetti promotori dell'iniziativa. Delle difficoltà sarebbero state riscontrate dai volontari anche nel reperire il materiale necessario che, probabilmente a causa della grave crisi economica, è stato donato solo in parte dai commercianti. È un'iniziativa che vuole sensibilizzare la gente nell'amore per la nostra città, per la nostra Favara. Abbiamo dipinto questa ringhiera perché crediamo che la bellezza è un dono di Dio, quindi far vedere ciò che è bello, ciò che è mantenuto bene è anche sinonimo di amore verso ciò che ci è stato donato dal Signore. E Favara, come tutta la terra, è una porzione di terra che l'Altissimo Bonsignore, così come dice San Francesco, ci ha regalato. Noi ne siamo i custodi, non siamo i padroni e quindi da custodi la dobbiamo custodire, la dobbiamo proteggere e la dobbiamo salvaguardare anche da quelle persone che non la amano, che non la rispettano, che la deturbano e che continuano a violentare questa madre e questa sorella che è la nostra Favara. I festeggiamenti di San Francesco a Favara proseguono oggi e si chiudono domani nel giorno dedicato al frate di Assisi. Diversi sono ancora gli appuntamenti in programma. Il pomeriggio, giorno 3 pomeriggio, accogliamo alle ore 15 i bambini diversamente abili, ma tutti i bambini che vogliono partecipare. Ci sarà l'orto del convento aperto dove potranno visitare tutti coloro che lo vogliono, sia gli animali sia il giardino. Poi ci saranno due cavallini che il maneggio San Benedetto ci offrirà per fare ipoterapia e alle 16.30 puntuali inizieremo la benedizione degli animali. Quindi i bambini potranno accarezzare cagnolini, gattini, vedere le tartarughe, i pesciolini, perché ogni anno sono tante le persone che vengono con questi animaletti per farli benedire. Domenica le sante messe sono alle 8.30 al Bocone del Povero, alle 11 qui in convento, alle 16.30 per quello degli ammalati e degli anziani e alle 18.30 la santa messa presieduta dall'arciprete Don Giuseppe d'Oriente. Poi alle ore 20 inizierà dal cimitero Piano Traversa la sfilata dei cavalli che si concluderà qui a Piazza d'Armi e poi si continuerà la festa così in piazza dove ci saranno anche dei vari momenti.